la vettura 2022 lato power unit ha un duplice significato da un lato abbiamo dovuto contribuire al cambio del regolamento attraverso un'installazione e un layout specifico dall'altro abbiamo dovuto sviluppare al meglio il nostro prodotto visto il successivo congelamento fino al nuovo corso regolamentare ne è uscito un progetto non convenzionale estremo dal punto di vista dell'installazione in vettura del layout e certamente di buona parte dei suoi componenti interni certamente il motore a combustione interna e il turbo compressore sono gli elementi che caratterizzano la power unit 2022 d'inizio stagione anche perché il sistema ibrido è di fatto un consolidamento dell'evoluzione che abbiamo portato in pista alla fine della scorsa stagione anche l'elettronica è dovuta cambiare molto e si è dovuta adeguare alle esigenze di una vettura completamente rivista e di un motore decisamente diverso da quello dell'anno passato in generale rappresenta rappresenta il terzo passo del nostro percorso di sviluppo essendo stato il primo il motore dell'inizio della scorsa stagione e appunto il secondo l'evoluzione del sistema ibrido portato in pista alla fine del 2021 certamente ha pesato diciamo che rispetto agli anni scorsi ci ha spinto e imposto di osare nelle soluzioni progettuali ancora di più vista l'importante scadenza temporale e appunto il successivo periodo di congelamento abbiamo dovuto portare tutti i nostri programmi al limite abbiamo dovuto tenere la porta aperta fino all'ultimo momento a tutte le possibili evoluzioni e certamente abbiamo dovuto prenderci tutti i rischi necessari diciamo che è stato un elemento accelerante dello sviluppo in un mondo il nostro che già di per sé piano non va l'introduzione del 10 per cento di etanolo riduce il contenuto energetico della benzina finale e quindi come tale ha un impatto sulla prestazione sia in termini di potenza motore che in termini di recupero di energia dal gas di scarico è vero anche che l'etanolo ha anche alcune caratteristiche non necessariamente negative per la combustione ma che devono essere sfruttate in modo adeguato da un opportuno progetto motore diciamo che al netto di tutte queste considerazioni la perdita prestazionale è dell'ordine dei 20 cavalli l'impatto tecnico dell'introduzione dell'etanolo nel combustibile è comunque anche più elevato del solo aspetto prestazionale vista l'estremizzazione del nostro prodotto ma proprio per questo è ancora più significativa la sua introduzione nell'ambito dei motori da formula 1 ed è positivo come la fia stia intraprendendo una importante campagna verso la sostenibilità che culminerà nel futuro nel 2026 con il nuovo forma di regolamento tecnico e l'introduzione di un combustibile 100 per cento sostenibile è stata decisamente importante e soprattutto coerente con il nostro percorso di sviluppo che ci doveva portare al 2022 con una power unit migliorata in tutte le sue parti diciamo che quando si introduce un upgrade così importante come quello del sistema ibrido per noi lo scorso anno per quanto si possa sviluppare a banco è solo la pista il banco prova più completo e come tale più efficace per validare un nuovo prodotto abbiamo avuto dei riscontri tecnici importanti che abbiamo poi trasferito all'interno del progetto del 2022 diciamo che ogni anno come power unit lavoriamo sempre a stretto contatto con i colleghi dell'area telaio cercando di trovare sempre il miglior compromesso per il bene della vettura quest'anno è stata certamente diversa se non più difficile certamente è stato più ampio lo spettro delle soluzioni che abbiamo dovuto valutare e validare e siamo andati a dover definire delle soluzioni non sempre in linea con quelle del passato quindi certamente è stato un buon banco prova per le nostre capacità di progetto di simulazione i nostri tool e le nostre metodologie c'è tanto di nuovo c'è tanto di innovativo all'interno di questa power unit basti pensare che la percentuale di componenti nuovi del motore a combustione interna rispetto alla stagione precedente è una delle più alte degli ultimi anni c'è un'innovazione dal punto di vista dei contenuti ma c'è anche un'innovazione dal punto di vista dell'architettura della disposizione in vettura e del layout in generale certamente rispetto al passato abbiamo dovuto valutare e intraprendere delle soluzioni diverse e questo penso che nel nostro ambiente rappresenti qualcosa di effettivamente continuamente innovativo diciamo che nel nostro sport questa è sempre la domanda più difficile nel senso che il vero grado di soddisfazione si misura al momento della competizione in pista posso dire però che c'eravamo dati tra gli altri obiettivi tecnici almeno l'obiettivo di non avere rimpianti di non aver provato tutto quanto era possibile provare e nel non avere rimpianto di aver lasciato qualcosa di intentato lungo la strada questo penso che lo possiamo possiamo dire di averlo raggiunto quanto e se sarà sufficiente ce lo dirà la pista come giusto che sia certamente però al momento il credito e la mia riconoscenza va a tutte le persone del gruppo power unit che hanno lavorato e continuano a lavorare sentendo la responsabilità della storia della scuderia e di esserne i custodi di una tradizione vincente